Ciao, benvenuti a questo video. Ho deciso di farlo perché questo giugno c'è un fenomeno che si verifica nel caso del pianeta Giove una volta ogni sei anni, dovuto al passaggio di Giove all'equinozio. L'ultima volta che questo fenomeno si è verificato è stato nel 2015 e riguarda quelli che sono detti FEMO, cioè fenomeni mutui, dal francese fenomeno mutuel, che sono eventi fotometrici basati su una serie di eclissi e quindi di rispettivi occultamenti e rivelazioni che riguardano questi quattro satelliti che ruotano intorno al pianeta Giove che ricordo essere nel segno dei pesci insieme a Nettuno in questo presente momento astronomico e astrologico. Questi eventi reciproci o mutuali possono essere molto interessanti da un punto di vista energetico proprio per le alterazioni prodotte rispetto alla ricezione di onde radio, come queste onde radio arrivano sul pianeta Terra rispetto alle conversazioni e al dialogo con il pianeta Giove. E diciamo anche che l'altro aspetto caratteristico di questi fenomeni mutui o reciproci, che dir si voglia, è il fatto che avvengono quando la Terra e il Sole incrociano il piano comune, quindi un piano comune nel quale questi satelliti orbitano. Questa configurazione appunto nel caso del pianeta Giove avviene una volta ogni sei anni e in questo giugno, specificatamente il 5, il 7, il 18, il 30 di giugno, 27 o 30 di giugno, avremo la possibilità di osservare questi fenomeni anche perché Giove sarà molto vicino alla linea dell'orizzonte, basti pensare che sarà a 9 gradi da da Lecce, da un punto di vista di distanze, quindi saranno anche osservabili attraverso telescopi anche amatoriali, quindi anche senza necessità di rosse attrezzature e si manifesteranno come una danza di luci con accensioni e spegnimenti, accensioni e spegnimenti derivati proprio dal manifestarsi dalla frequenza di queste eclissi con cui un satellite nella danza con il pianeta Giove copre l'altro, l'ombra dell'uno copre l'altro e poi lo rivela e via dicendo. Questi quattro satelliti che da un punto di vista energetico sono piuttosto interessanti in questo momento astronomico e storico anche da un punto di vista evolutivo della della specie umana e non a caso diciamo nel piano divino una concomitanza di eventi planetari si sta realizzando, intrecciando in questo 2021 questi quattro satelliti sono io, cioè non io, io, ma io, il personaggio mitologico della mitologia greca di cui parleremo un attimo, Europa, Ganimede e Callisto, quindi sono questi quattro satelliti scoperti da Galileo Galilei nel 1610, 1610 che tra l'altro da un punto di vista gematrico ci riporta al nome stesso Io, secondo la sua, non secondo l'isopsefia greca ma secondo la traslitterazione in lettere ebraiche del nome, questi quattro satelliti vennero battezzati dallo stesso Galileo come satelliti, come astri, i medicei in onore di Cosimo, secondo dei Medici, granduca di Toscana. Io è un satellite naturale di Giove che oltre appunto a derivare il suo nome dalla mitologia greca e sulla quale ci soffermeremo in quanto come appreso rispetto alle analisi dei nomi e degli archetipi. Ecco, il valore in frequenza dell'archetipo diventa molto importante per la comprensione della sua influenza energetica, del suo flusso di energia. È un satellite naturale di Giove ed è il più interno di questi quattro satelliti medicei ed è il quarto satellite del sistema solare per dimensione, anche quello più denso di tutti ed ha, diciamo, sulla sua superficie 300 vulcani attivi, quindi è anche l'oggetto geologicamente parlando, in questo parallelo geologico, e vi parlo sempre per radici verbali, più attivo del nostro sistema solare, quindi è estremamente centrale su questo satellite, la forza vulcanica eruttiva, l'energia esplosiva. E questa estrema, diciamo, attività geologica è il risultato del riscaldamento delle sue maree dovuto a un attrito al suo interno causato da Giove e dagli altri satelliti galileani. Quindi io in qualche modo a questa intensità di attività eruttiva dovuta alla pressione di tutti gli altri, incluso Giove. Quindi naturalmente la maggior parte appunto della superficie di questo satellite è composta da piane ricoperte di zolfo e anidride solforosa congelata. Nonché questo vulcanismo è responsabile di molte sue caratteristiche, appunto con la telaviche producono cambiamenti superficiali molto evidenti, con superfici cromatiche che variano dal giallo, rosso, bianco, nero, verde, con la telaviche di oltre 500 chilometri di lunghezza che segnano la superficie. I materiali prodotti dal vulcanismo hanno costituito una sorta di atmosfera a chiazze ed hanno creato un toro, in questo caso mi riferisco al toroide, ma vi lascio aperta con una sorta di fantaglottologia o etimologia la parola toro, non solo come anche ricettacolo del fiore ma anche come toro l'animale in quanto legato anche alla mitologia di Io nella tradizione greca. Comunque questo toro intorno a Dio è un toro di plasma e si parla di plasmabilità. Quindi diciamo che una sorta di energia che già può essere suggerita da questi parametri prettamente scientifici è quella che in un momento intenso di attività eruttiva o esplosiva in cui avviene un qualche modo surriscaldarsi e un'esplosione di avvenimenti o di eventi o di circostanze energeticamente e concretamente parlando si crea anche una materia di forma toroidale quindi che può essere allineata con quelli che sono i toroidi del nostro campo magnetico individuale che ha delle doti di la qualità del plasma e in senso diciamo per estensione delle doti di plasmabilità considerevoli che quindi può essere utilizzata come materia grezza per la formazione e la creazione di nuove forme. E diciamo che io tra i satelliti è quello che ha svolto il ruolo più significativo da un punto di vista astronomico perché diciamo ed è stato scoperto per chi potesse essere interessato e per come risuonasse questa data il 7 di gennaio del 1610 come detto con un telescopio rifrattore a rifrazione e a una classe di ingrandimento di 20 presso l'università di Padova perché è importante io perché ha favorito l'adozione del modello copernicano del sistema solare ha contribuito allo sviluppo delle leggi di Keplero e in particolare alla convalida della terza su quel per quanto riguarda il moto dei pianeti e diciamo che è servita come primo elemento di osservazione per una prima stima della velocità della luce. Quindi nel corso poi del XVII secolo io e gli altri satelliti servirono appunto per diversi scopi anche come quello di determinare la longitudine, convalidare la terza legge di Keplero sul moto planetario, determinare appunto il tempo necessario per la luce nel viaggiare tra Giove e la Terra e si creò anche una teoria di matematica per spiegare le orbite in risonanza di Io, Europa e Ganimede. Diciamo che appunto questo materiale che sfugge dalla trazione gravitazionale di Io va a formare un toro di plasma, quindi tutto ciò che Io non può controllare da un punto di vista di attrazione gravitazionale, diventa nella perfezione del piano cosmico un toro di plasma che si divide sostanzialmente in tre parti, una parte esterna più calda che è appena fuori dell'orbita del satellite Io, una parte intermedia in cui c'è un composto di materiali neutri e plasma in raffreddamento, che diciamo ha una distanza che è praticamente la stessa di quella di Io da Giove. Tra l'altro il mudra, rimanendo in una letteralità semplice spicciola Io e Giove, che è questo mudra che si vede con l'unione del pollice e dell'indice che si usa nello yoga e ve lo lascio lì anche questo come come risuona, ma è sicuramente un mudra che in questi giorni viene quasi spontaneo in un senso di non so istintivo, forse vi sarete trovati con le dita in questo senso anche a portare l'attenzione anche all'utilizzo di questo gesto e quindi anche trasformarne l'eventuale utilizzo laddove necessario. La parte più interna invece, quella del toro, è la parte più fredda composta da particelle che spiraleggiano verso Giove. Questa interazione tra l'atmosfera di Io e il campo magnetico di Giove e le nubi delle regioni polari di Giove stesso, di questo gigante gassoso, producono una corrente elettrica che è conosciuta come tubo di flusso di Io che genera delle aurore sia nelle regioni polari di Giove che nell'atmosfera di Io e che sono paragonabili alle nostre aurore boreali. Naturalmente, come detto, Io ha una forte influenza, una forte ripercussione, il suo stato si ripercuote sulle emissioni radio che provengono da Giove e che sono dirette verso la Terra. Quindi in questa comunicazione interplanetaria tra Giove e la Terra è quella che può essere la sua attuale posizione nei pesci con Nettuno, quelli che possono essere i collegamenti fatti in relazione alle scorse lunazioni, a quella che sarà la prossima eclissi solare anulare in gemelli e quella che poi sarà la luna piena in Capricorno successiva del 24 di giugno, i segnali radio che da Giove arrivano sulla Terra sono fortemente influenzati dal tubo di flusso in qualche modo ci si presenta come una sorta di associazione tra l'idea di stabilire una proporzione tra quelle che sono i tubi di flusso e quindi gli apporti e la portata energetica che ci arriva dal cosmo e dal sistema superiore cosmico con quella che è l'energia che ci arriva da ciò che è superno rispetto al sistema superiore a noi cosmico, quindi quello anche del contesto legislativo nel quale siamo inseriti che è il tubo di flusso divino. Quindi da un tubo di flusso di Dio a un tubo di flusso di Dio di stabilire una sorta di proporzione dentro di noi, raccogliete i messaggi ripeto come risuonano che possano essere di ispirazione o semplicemente di riflessione che possano risuonare in qualche forma nei momenti in cui ci ritroviamo impegnati nelle nostre individuali situazioni. Naturalmente questo tipo di tubo di flusso diviene un binario perché una linea di flusso praticamente è una linea che è che praticamente non incrocia ma una linea di flusso non si incrocia mai con l'altra, procedono parallele, così tubo di flusso di Io con tubo di flusso di Dio come detto in questo senso di metaforico possono diventare un binario su cui ci muoviamo in accordo con quello che è il sistema legislativo cosmico nel quale siamo inseriti per potenziare e ottimizzare il flusso energetico del quale anche noi siamo compartecipi al pari di una stella o di un pianeta o di un satellite. Quindi non c'è separazione tra noi e loro, siamo l'uno in stretta relazione con l'altro e ci si influenza a vicenda. Nel momento in cui si collabora con quello che è l'andamento delle energie allora si può in qualche modo raggiungere questa ottimizzazione anche a livello materico, anche a livello concreto dell'energia nelle nostre esistenze, situazioni nella sua manifestazione pratica e concreta e fisica e materiale in quanto tutto nell'universo tende a diciamo dei rapporti molto precisi rispetto a dispersione e ottimizzazione nei termini delle risorse energetiche. Io, come detto, è un personaggio della mitologia greca, una sacerdotessa di Era Argiva, figlia di Melia e di Inaco, primore di Argo e non solo, anche una divinità fluviale. Quindi a causa della sua storia mitologica viene spesso raffigurata io come una giovane donna con in testa le corna di una mucca, per questo spesso fu confusa o identificata con Iside o con Hathor e accostata alla Luna. Luna tra l'altro legata alla dea Artemide, anche lei protagonista in questo quadro satellitare, per quanto riguarda soprattutto il satellite Callisto, anche del quale parleremo. Naturalmente Artemide poi anche, come Diana, dea della caccia, è anche guardiana del regno plutonico, quindi del regno di Ade, degli inferi, dell'oltretomba. Diciamo che Zeus si innamora di Io a causa di Zeus, padre degli dèi, si innamora di Io a causa di un incantesimo gettato da Lunge, figlia di Pan, il dio Pan e di Eco. È interessante che questi termini Pan e Eco si ritrovino sui mixer, per chi in termini audiofili, e non entro nello specifico, ve lo lascio come tipi di associazione. La nostra realtà è totalmente costituita di associazioni che vanno a riallacciarsi a degli archetipi gettati e che si perdono dalle origini, dalle origini, diciamo agli albori della storia dell'umanità. È quello che ritroviamo oggi anche a livello contemporaneo, presente nelle più inosservate cose che abbiamo attorno, spesso va a riattivare dei modelli archetipici a nostra insaputa, in quella che è la nostra coscienza più profonda della quale non abbiamo coscienza e che quindi ancora ho una forma di conoscenza relegata nelle profondità. Diciamo che Zeus appunto per sedurre la sacerdotessa Io si muta in una nuvola soffice, leggera, eterea, dorata e in questa forma di nuvola, di nube, che ci riporta anche un'idea di vaporeacqueo, che ci riporta un'idea di ascensione, feconda Io e Era, la moglie di Zeus, naturalmente accusando e quindi furiosa per l'infedeltà del marito, trasforma Io in una giovenca bianca e diciamo, anzi scusatemi, Zeus stesso trasforma Io in una giovenca bianca e lo fa perché sfugga all'ira di Era. Ma Era ne reclama diciamo la proprietà e l'affida ad Argo Panoptes, ordinandogli di legare segretamente questa vacca a un albero di olivo presso Nemea. Nel frattempo Hermes, incaricato da Zeus di recuperarla, addormenta Argo e poi lo uccide colpendolo con una pietra e infine tagliandogli la testa e così libera la la giovenca. Ed Era che ormai diciamo di fronte al fatto compiuto di Argo morto, Argo che era un diciamo una creatura dai cento che aveva in fronte cento occhi nel sonno e nella veglia, dice Ovidio, credo se non sbaglio. Cento occhi in fronte è qualche occhio in più del nostro terzo occhio, nel senso del nostro unico terzo occhio. Quindi sono 99 occhi in più per riportarci a un'idea anche di superumanità con il numero 100 che ci riporta l'idea della santità nell'alfabeto ebraico. Ma nonché poi ai 99 giusti e all'uno che si converte. Ma in ogni caso Era, ormai constatando la morte di Argo, prende questi suoi occhi e li posiziona sulla coda del pavone. Ecco perché questa caratteristica, secondo il mito, forma ad occhio nella piuma del pavone. Quando la Giovenca arriva al braccio di mare tra Europa ed Asia, attraversa nuoto lo stretto che viene appunto denominato Bosforo, che significa proprio passaggio della Giovenca, e giunge in Egitto dove partorisce Epafo, riacquistando quindi le fattezze umane. Zeus non fa differenza tra mortali e divini e dei per le sue scappatelle diciamo amorose. E se qualcuno suscitava i suoi interessi pur di conquistarla non esitava a servirsi delle più strane mutazioni e metamorfosi. Quindi come questa della nuvola. E diciamo che anche questo ci riporta a un'idea di equità dell'amore divino. Ora se volessimo traslitterarlo, ovvero la possibilità dell'uomo che è data all'uomo di essere uno col creatore. Ritornando a questo mito di Dio, diciamo che era Stazio quello che narrava nella Tebaide, che dice Inaco segue Ehi sul sinistro lato, Stassi appoggiato alla palustra e sponda e verso l'urna e ne diffonde un fiume. E guarda Mesto l'infelice figlia mutata in vacca e il vigile custode che dorme e veglia con cent'occhi in fronte. E quello che ci viene portato all'attenzione in questo quartetto tra Zeus, Hera, Io ed Hermes, il quinto Argo, è proprio il rapporto tra questi personaggi. Hermes prende la bacchetta d'oro che gli antichi chiamavano Caduceo e il suo leggendario copricapo e vola sulla terra dall'Olimpo e si presenta ad Argo sotto le sembianze di un giovane pastore di capre. Quindi inizia a suonare uno strumento formato con le canne e la melodia armoniosissima incanta lo stesso Argo che prega il pastore di pascolare le sue capre vicino a lui dicendo che quello era il miglior pascolo che si potesse trovare in quelle zone. E quindi diciamo che Hermes Mercurio si siede al suo fianco e inizia a suonare queste melodie che inducono al sonno anche lo stesso Argo, sebbene Argo quando era stanco riposava con metà dei suoi occhi quindi metà si chiudevano e dormivano e metà rimanevano aperti, quindi praticamente non si addormentava mai. Ma la saggezza e l'abilità di Mercurio qui sta nel raccontare la storia dello strumento allo stesso Argo e racconta che viveva un tempo sui monti dell'Arcadia una ninfa di nome Siringa Sirings che significa canna, seguace del culto di Artemide che viveva nei boschi cacciando tanta era la sua eleggiadria che molti dei cercavano di possederla, tra questi anche il dio Pan che iniziò a seguirla. Siringa mentre tentava la fuga per sfuggire al dio pregò suo padre, il dio fluviale Ladone di sottrarla a quella caccia e fu così che fu trasformata in un fascio di canne sotto gli occhi di Pan al dio altro non rimase che prendere una canna, tagliarla in tanti pezzetti e legarle assieme con un legaccio ricavando in questo modo uno strumento che emetteva una melodia dolcissima e che da quel momento prese il nome di Siringa, noto anche come flauto di Pan e quindi quando terminò di raccontare Mercurio si accorse che finalmente tutti i cento occhi di Argo erano chiusi, addormentati e a quel punto lo uccise gettandolo da una rupe e liberando io. usa la tua mente con saggezza, il cacciatore, l'idea del culto di Artemide della ninfa Siringa che vive nei boschi cacciando diciamo che è una caccia, il numero 27 che viene a riportarci alla lunazione della luna piena in sagittario scorsa con l'eclissi lunare totale perché abbiamo visto numericamente, analizzandola da un punto di vista numerico che questo numero diventava fondamentale anche come poi rappresentazione del quadrato e nella manifestazione nella generazione olografica quindi in frequenza da parte del piano divino, dei mondi e della creazione stessa il 27 che è il primo passaggio, che è un passaggio estremamente materico il 47 che ci riporta un 11, che ci riporta un 2, che ci parla di dualità che ci riaggancia al segno dei gemelli, l'utilizzo saggio di Mercurio come governatore del segno dei gemelli ma anche come rappresentante del nostro intelletto e delle nostre capacità cognitive il 9 che è unito al 2 ci riporta nuovamente a un 11 a raddoppiare l'11 stesso e a farlo diventare un 4 come costituzione stabile quindi una caccia che è un seguire le tracce di una ragione, di un motivo, di un senso, di un proposito che è un seguire le sincronicità e seguire i segnali che è un saper riconoscere le impronte sul cammino attraverso l'utilizzo del nostro intelletto e quindi un invito anche ad approfondire tra l'altro su questa carta ci colpisce anche l'immagine sposto i mazzi per la via dell'ombra e l'ombra che faccio osservare è questa ombra dell'orso ombra dell'orso insieme al cacciatore che ci riaggancia all'idea dell'altro satellite coinvolto in questo passaggio di energie del mese di giugno che è Callisto Callisto tra l'altro poi riguardo a Dio torneremo un attimo anche per quanto riguarda l'etimologia della parola stessa ora naturalmente ci ritorniamo questo lo specifichiamo subito io che è derivato dal greco non è propriamente io inteso come ego ma allo stesso tempo il personaggio mitico e l'ego latino potrebbero avere una radice comune questa radice comune si lega alla radice proto-indoeuropea Agam che indica la necessità ovvero viene identificata Agam che per esempio lo troviamo come anche radice della parola ansia che lo troviamo come radice della parola angina angina pectoris è un restringersi del sistema cardiovascolare e cardiaco che provoca dolore cosa che aveva mio padre angina pectoris sul lato del ventricolo sinistro soprattutto tanto che prendeva vasodilatatori che si chiamano Carvasin e Trinitrina finché io me lo ricordo fino agli ultimi giorni su questo pianeta e quindi l'idea dell'ego dell'Agam e dell'io come senso di restringimento strangolamento vi parlo per sinonimi radicali tra l'ittita diciamo nelle varie radici aramaiche o egizie quelle che delle lingue semitiche in generale questa radice ci riporta un'idea di restrizione di sentire soffocare sentirsi soffocare strangolamento corda collana giogo cappio anello al collo e anche diciamo appunto come accennato all'ego e quindi con un tipo di connotazione che poi Platone spiega andare a connettersi con l'idea di necessario di necessità e di quindi bisogno e quindi su quel tipo di frequenza la come si dice l'idea del restringimento che ha comunque e che è legata al chakra della gola in senso più ampio ovvero in qualche modo alle parole strozzate ai rospi ingoiati alle comunicazioni che non possiamo comunicare in qualche modo ecco si invita all'utilizzo dell'elemento mercuriale in questo contesto di saper trovare laggiù il giusto senso per il quale diventa non più un bisogno ma una preferenza ovvero si sceglie una una frequenza rispetto a un'altra e in ogni caso ci riaggancia anche all'idea dei passaggi dell'iniziazione come passaggio della gola come luogo angusto una gola fra i monti in cui passa solitamente il fiume e naturalmente riallacciandovi a questi inputs come possano risuonare teniamo presente che in questo in questa ricerca tra l'ombra dell'orsa ovvero in cui qui ci riallacciamo diciamo a Callisto come come mito Callisto era una ninfa ancella di Artemide principessa d'Arcadia e quale ancella di Artemide votata la castità desiderata da Zeus che assunte le sembianze della dea Artemide per possederla la trasforma in un'orsa per nasconderla ad Era Era però se ne accorge chiede ad Artemide di uccidere Callisto e quando muore Callisto Zeus ne prende il bambino Arcade che dà presumibilmente a Hermes o Maya per salvarlo mentre la madre si trasforma in una stella che prende appunto il nome di Orsa ecco che Callisto in questa carta diventa è ancora come dire non non è è precedente al alla sua trasformazione nella costellazione è nel momento in cui è ancora nelle sue sembianze di ninfa è precedente al momento dell'inganno perpetrato da Zeus e della ira di Era e di Artemide diciamo che nella nella poi gli elementi del mito originario riportano ad un'unificazione tra Callisto Artemide e l'Orsa Maggiore in un senso nel senso in cui divengono proprio tracce del mito arcaico dell'iniziazione quindi Diana Callisto diventa un'orsa che poi viene ucciso dalla dea stessa e rinasce come costellazione il nome Callisto che in greco significa la bellissima è un appellativo sacro di Artemide il mito dice anche che gli abitanti dell'Arcadia discendevano dal figlio nato fra Callisto e Zeus e Zeus in forma di Artemide Callisto che a sua volta è figlia di un uomo animale perché il padre Licaone ovvero il fondatore del culto di Zeus liceo di Giove Lupo trasformato in lupo dallo stesso Zeus come punizione per aver ucciso un bambino sacrificandoglielo in questo culto diciamo che Callisto Diana la bambina che a lei si affida secondo quelle che sono le ritualistiche della festa detta di Artemide Brauronia in cui due bambine di non più di dieci anni si travestivano da orse e partecipavano alla processione così mascherate elementi che comunque convergono a mostrare che il rito è il residuo di un culto di un animale totemico di un animale totem che venerando questo animale i fedeli speravano di conquistare la sua forza la sua temibilità la sua imponenza le sue capacità di cacciatore di diventare uno con l'animale totem in questo culto diciamo misticamente Diana Callisto l'orsa e la bambina che viene affidata a questa a questa triade sono la stessa persona e ad Artemide infatti sacra non solo l'orsa perché Artemide in origine è un'orsa essa stessa e anzi è anche la temibile signora delle belve di cui ci sono rappresentazioni in epoca micenea ma ed è l'esatto corrispondente della dea orsa celtica Arcto da cui deriva il nome il re Artù che combacia perfetti nomi radicalmente combacianti perfettamente con il nome greco per orso Arctos la e il re Artù con tutto quello che può essere a livello totemico quindi diciamo che c'è un rapporto tra l'incarnazione delle doti del cacciatore dell'orso l'unificazione del cacciatore della preda in una sorta di viaggio al recupero del sé che viene promosso e come dire in cui gioca il ruolo fondamentale Mercurio Mercurio come conduttore della caccia conduttore del gioco diciamo che in questo in questa danza di luci che sarà costituita da questo scambio di luce e ombra ecco in questa danza di luci ombre che sarà costituita da queste da questo fenomeno detto femu o fenomeno mutuo dei satelliti di giove gli elementi archetipici della della figura di io con tutti quelli che possono essere le interconnessioni se vogliamo anche molto molto estensive del loro allacciarsi all'ego e all'idea dell'ego e all'idea dello strangolamento e all'idea dell'occlusione e all'idea dell'iniziazione e all'idea del passaggio attraverso la gola come elemento di iniziazione per un cacciatore che è uno con con la preda per un cacciatore che è cacciatore della bellezza con la b maiuscola e che è anche orsa come costellazione d'altronde poi l'orsa maggiore viene associata a Callisto l'orsa minore al figlio Arcade con quello che le stelle dell'orsa comportano da un punto di vista simbolico a livello di direzione e di guida per il sistema umano dal nella storia nel corso della storia è interessante che ci vengano portati all'attenzione questi questi satelliti tra cui anche Ganimede come detto ed Europa Ganimede è anch'esso diciamo motivo di una delle trasformazioni di Giove in questo caso in un'aquila per la sua bellezza perché Giove si invaghì del giovane Ganimede quindi si trasformò in aquila per rapirlo dalla sua vita terrena e portarlo all'Olimpo e e naturalmente questo riferimento a Ganimede e Callisto dall'altra parte ci porta anche a un'idea di trascendenza del genere maschile e femminile da parte della divinità in qualche modo c'è una qualità ermafrodita che viene portata in evidenza Ganimede diventò emblema della natura dell'amore e mentre per esempio dall'altra parte Europa anch'essa circuita da Zeus ancora una volta trasformato in aquila venne sopraffatta in un bosco di salici o secondo altri sotto un platano sempre verde e sopraffatta attraverso una di queste trasformazioni di Zeus in aquila ma prima di trasformarsi in aquila Zeus l'avvicinò attraverso Hermes che si trasformò in un toro bianco che si distese ai piedi di Europa la quale vedendo questo mansueto toro impressionata dalla mansuetudine dell'animale gli salì in groppa e appunto Hermes Mercurio la rapì e la portò attraverso il mare fino a Creta dove Zeus rivelò la sua identità e alla fine trasformato in aquila la sopraffà in un bosco di salici una rinascita è assicurata in che forma la forma del toro bianco viene a ricrearsi nelle stelle che compongono la costellazione del toro i doni che Zeus fece a Europa a Europa tra i doni che gli le fece c'era anche un giavellotto che non sbagliava mai il bersaglio il toro bianco ci porta nuovamente a un'idea di ricezione impurezza e mansuetudine sebbene e diventa veicolo per la trasformazione per la rinascita in altra forma per la trasmutazione una trasformazione che come suggerito in questa coppia di carte avviene a livello di guarigione di una parte del sé viziata strangolata o condizionata dall'ego con un ritorno attraverso diciamo una caccia alla bellezza e alla purezza con la P e la B maiuscole che trascende e trasforma in un superconduttore l'ego stesso nella congiunzione con quello che è il sé superiore e con gli elementi di libertà e quindi diciamo che in questo sacrificio Dio per diventare come dire sé superiore in questa maestria del 33 e 44 che escono insieme a formare un 77 in questa trasformazione di io a diventare e di ego e di ansia e di struttura e di gola come restrizione trasformare questi elementi in una forma elementale di iniziazione ai fini di una liberazione personale ecco che il passaggio e la danza di questi satelliti in questo contesto di giugno diventa importante in questo senso ad accrescere quelle che sono già energie citate in questo senso di elevazione e di ascensione naturalmente anche l'idea della della trasmutazione in forma di di un elemento in forma di un animale va a ricondurci a quella che può essere quello che può essere l'aspetto totemico e simbolico dell'animale stesso la giovenca il toro bianco il pavone l'aquila l'orso un 77 che ci riconduce a un 14 ovvero una caccia che avviene in in una area umida e profonda una una come dire nel momento in cui assumiamo Zeus come principio maschile in questo contesto metaforico è una caccia al ritrovare l'elemento femminile la polarità femminile perduta in una sorta di oscurità o di profondità liquida profonda ombra che è nella quale diciamo questo elemento femminile può ancora essere nascosta o trovarsi c'è un risvelarsi e un elevarsi di questa polarità in senso di iniziazione e guarigione e quindi di liberazione che porta in vita le idee con questa anguilla elettrica non solo gli elementi dell'acqua non solo l'idea di portare alla vita di dare alla luce ma di farlo secondo quelli che sono i parametri anche di un campo elettromagnetico che ci consente di farlo che possiamo riallacciare a un 24 giugno per esempio con l'idea della luna piena in capricorno un 7 che si ripete in questa serie di 7 7 7 per andare ad un 21 come idea di polarità guida ovvero una la polarità femminile che diviene guida ispirazione per portare alla vita i propri progetti e le proprie idee quindi un approccio ricettivo passivo tra virgolette ricettivo sicuramente con quella che è la messaggistica che si riceve dal piano superiore in termini di verità e di sincronicità del messaggio con la prontezza del cogliere i segni i segnali le chiamate che hanno a che fare che vengono dal mondo superiore e riguardano quello che abbiamo citato rispetto agli occhi di Argo ovvero per quanto riguarda noi al nostro terzo occhio collegato direttamente al nostro cuore i cento occhi che sempre vedono e mai dormono addormentati in quel caso dal trucco adottato da Hermes che col suo caduce o i suoi calzari e il suo copricapo va dal mostro che mai si addormenta e lo addormenta con l'inganno raccontandogli una storia per cui l'idea che il nostro terzo occhio la nostra capacità quindi il nostro centro di ricezione da parte del mondo dei messaggi che arrivano dal mondo superiore connesso direttamente col nostro cuore con cui c'è uno scambio pari a quello che c'è tra noi e le stelle forse vuole puntualizzare o mettere in evidenza quelle che possono essere storie nelle quali raccontate dalla nostra mente e che ci hanno fatto addormentare che hanno chiuso tutti e cento gli occhi a evidenziare che nel nel rapporto della rettificazione di ciò che appartiene che quindi è andato a conficcarsi nelle profondità dell'inconscio viene a essere gettata una luce ed è in questo rapporto che le idee prendono vita il mondo superiore va a permetterci di aprire il nostro cuore a quello che può essere stato rispetto a quello che può essere stato un nostro perderci di vista un nostro addormentarci e allo stesso tempo lasciare che questo mostro tra virgolette argo dai cento occhi resti come separato da noi ovvero lasciando che argo dorma che a noi che il nostro unico occhio sia o che i nostri tre occhi siano come questo 46 47 ovvero come questo Hermes che sa come orchestrare i nostri pensieri per portarci alla liberazione di una nostra verità della quale eravamo siamo innamorati e che non nulla a che fare con con quello che è contestualmente fuori di noi ma che è totalmente radicata e a radice dentro di noi e quindi in qualche modo la nostra mente usata in maniera saggia permette la liberazione di questa parte di noi quella che è una polarità femminile che porta in vita le idee che vuole essere liberata che vuole rinascere interessante la sequenza su questo lato e quella che è la sua come dire interconnessione con le carte dall'altra parte dell'altro lato cioè sul lato sinistro che in questa specularità vado a far coincidere con il lato femminile abbiamo questa chiamata da parte della polarità femminile all'utilizzo degli nostri strumenti perché essa possa essere liberata un riscatto della creatività e della capacità creativa in termini anche di frequenza dall'altra parte a partire dal cacciatore adesso vorrei ritrovare un attimo l'ordine con cui sono uscite il cacciatore che si muove attraverso questo sale in zucca attraverso questa saggezza a ritrovare come dire gli elementi che permettono la rinascita e la guarigione di una polarità femminile quindi un sacrificio un'offerta di trasformazione che viene fatta per ricevere una liberazione attraverso attraverso il prestare attenzione l'essere presenti a quelli che sono i segni relativi ai nostri sogni presentati nel contesto che viviamo quotidianamente in ogni istante funzionali a portare in vita le nostre idee essendo uno col creatore col portatore di vita dell'idea perché possa perché possiamo essere il pavone che ha sulla sua coda come un trofeo i cento occhi di argo e che quindi non per manifestare superiorità o per ostentare la bellezza ma perché questo diciamo è l'emblema di una situazione verificatasi di fatto e quindi di un evento constatato che ha permesso lo stabilirsi di una relazione corretta tra il nostro cuore e i nostri chakras superiori e quindi il corretto il corretto posizionamento in questa sorta di volta stellata in cui i cento occhi di argo vanno in qualche modo a ricalcare l'idea delle stelle della volta celeste così come sulla coda di questo pavone ecco che non è più ostentazione di vigilanza o difensiva o di guardia o di io non dormo sorta di energia io sono sveglio e non posso rilassarmi non posso dormire elementi di ansia elementi di auto eccessi di autodifesa che sono come delle medaglie al valore acquisite in un senso di bellezza più ampia che ha il suo centro nell'apertura e nella luminosità del nostro cuore che finalmente esce dal cono d'ombra dell'eclissi per una sorta di rettificazione che è avvenuta grazie al piano superiore in numericamente 6 4 10 più 6 17 una parola che viene espressa in questo senso messaggi comunicazioni che hanno che sono legati al portare in vita le nostre idee nella ottica di una liberazione di quella che è la verità contenuta e della luce contenuta nel nostro cuore un 10 più 6 16 quindi un 7 16 che è una visione che noi abbiamo la visione che ci viene suggerito di far brillare di portare avanti sulla quale focalizzare la nostra energia distogliendo l'attenzione da quelli che potrebbero essere elementi fuorvianti apparenze giudizi immagini che altro non sono che simboli di una verità contenuta all'interno questa visione alla quale si somma il 33 e il 44 quindi un 5 qui abbiamo un 7 7 7 un 5 più 7 12 che diventa un 3 che unito al 47 ci porta a un 5 che si riallaccia a questo 5 per tornare a un 10 ed ecco che l'utilizzo saggio della nostra mente è l'offerta per la trasmutazione di quella che è la nostra verità interiore della quale diventiamo consapevoli e attraverso tale consapevolezza guadagniamo libertà permette il portare in vita le nostre idee permette di brillare all'elemento materno e creatore che è dentro di noi per un totale di 10 su questo su questa polarità e quindi una rettificazione sulla polarità femminile punto di congiunzione il cacciatore colui che cerca che fiuta le tracce che segue le impronte che segue la la preda che segue l'animale come spirito totem che segue l'orsa come costellazione come guida polare stella polare orsa polare che segue l'orso come emblema di di forza di salvezza energia salvifica contenuta nella radice della parola arcto come anche questa carta 9 congiunge questo 10 al 10 successivo quindi è una ricerca una caccia alla ragione anche per cui questa polarità femminile cerca la rinascita una ragione che ha che è legata alla guarigione delle nostre polarità un loro separarsi a una separazione nei termini in cui questi due serpenti potrebbero reintrecciarsi nel famoso bastone di Ermes Mercurio e quindi come entrambe le polarità chiedano che vengano magnificate le ragioni per cui è avvenuta una separazione netta tra le due perché ognuna compia il suo processo di guarigione ma in questo contesto il principio maschile diventa fondamentale nell'appoggio della causa del femminile questo serpente che si riallaccia al 43 e quindi un 7 più uno otto che si riallaccia a un 5 nuovamente per arrivare a un 13 numero che esprime finalmente una riunificazione una evoluzione numero che esprime la forza e l'unione numero che esprime la sublimazione di un ciclo concluso a questo diciamo l'energia dei movimenti satellitari intorno a Giove vuole condurci su questo ci sostiene considerando anche appunto la posizione di Giove attualmente nei pesci segno di trascendenza segno mistico ma segno anche che nel suo lato ombra e quindi in questa idea di eclissarsi di occultamento e rivelazione occultamento e rivelazione può indicare anche un passaggio polare tra le estremità della volontà di successo di affermazione e la diciamo tendenza inconscia o subconscia all'autosabotaggio energie che vengono tenute presente ripeto anche le date 5, 7, 18 27 giugno con una luna piena in capricorno il 24 e una luna nuova in gemelli il 10 di giugno e tra l'altro con eclissi solare anulare che ci riporta all'idea dell'anello che ci riporta all'idea di io e di ego e quindi e di agam come ansia come male come sofferenza causata dall'ego in questo senso con questa lettura estemporanea sui femur detti fenomeni mutui o reciproci possiamo andare a effettuare anche noi con una sorta di consapevolezza maggiore quella e a osservare con una sorta di consapevolezza maggiore quella che può essere la danza tra i nostri satelliti le nostre polarità con l'espansivo giove gassoso nube che in sé contiene il potenziale dell'ascensione della fecondazione e della genesi attualmente con nettuno nello stesso segno appunto nei pesci dodicesima casa perché possiamo passare questa porta del tredicesimo segno nella costituzione in quello che è un oroscopo lunare di una rete intessuta sapientemente con le nostre frequenze con la nostra energia con questo breve messaggio vi saluto e vi salutano anche i FEMU Callisto Ganimede Europa ed io a presto ciao ciao